Amici di Città Giocchi, sempre dal Music Mess 2010 abbiamo fatto vedere qualche giorno fa Bestax PIN, il controller per piattaforma Mac ed ecco il gemello per piattaforma Windows, è il Bestax Typhoon e qui lo vediamo anche infatti con Windows 7 e Tractor LE il controller è esattamente identico all'altro, cambiano solo le serigrafie, i colori c'è la solita bella jog wheel sensibile al tocco il pitch, tutti i comandi identici al gemello che lo potete vedere qui a fianco che è il Bestax PIN che abbiamo visto qualche giorno fa al DJ Roadshow di Rob questa qui è invece la versione per Windows con il suo bravo Tractor LE colori un po' flash, un po' curiosi, però sempre interessante ricordiamo che costa tra i 220 e i 240 euro, quindi molto economica controller midi, scheda audio integrata, tutto a posto c'è un software per farlo funzionare in questo caso il Tractor LE, quindi per cominciare un controller con, ripeto, jog wheel sensibile al tocco e scheda audio è senz'altro un prezzo molto interessante quindi oltre a Spin presto avremo anche Typhoon che è la versione per Windows a tutti ciao, questo è Digital Jockey dal Music Mess 2010